Buon martedì, 14 marzo. Ancora una tragedia del mare. Ancora una barca che si rovescia e perdono probabilmente la vita 47 o forse 50 persone, non sappiamo di preciso. Avevano chiesto soccorso e qual è stata la risposta che noi abbiamo dato? Il solito respingimento. Rimandateli indietro, rimandateli presso i loro torturatori perché non c'è posto da noi. Noi abbiamo bisogno di vivere liberi, sicuri, sereni. E addirittura è stato registrato, quindi non è una invenzione giornalistica. Un messaggio di risposta a quella richiesta di aiuto. Grazie per l'informazione, ciao ciao. Questo è il massimo del degrado della dignità umana. Per quale ragione? Probabilmente esecutori, funzionali, dirigenti, operatori nei centri di comando si sentono autorizzati a rispondere in questo modo. Si assumeranno la loro responsabilità, prima di tutto morale. Mi veniva da dire etica, ma l'etica l'hanno già svelata, il loro comportamento è assolutamente evidente. Ma vi è una morale che trascende qualsiasi moralismo ed è quella che sta scritta nel libro della vita, rispetto al quale siamo chiamati a una vita autenticamente comunitaria, non respingente, perché una vita respingente porta inevitabilmente soprattutto l'homo sapiens a essere protagonista di terrore e catastrofi e si impedisce di vivere e può farlo, serenamente condividendo le risorse che ci sono, molto semplicemente ma molto difficile a farsi. Dunque una risposta cinica e violenta, implicitamente autorizzata da una classe dirigente di una politica che si è resa protagonista, della costruzione del consenso sulla base della disseminazione della paura e della rassicurazione nei confronti degli elettori che quando loro sarebbero stati al comando, ebbene, non ci sarebbero più stati migranti, avrebbero chiuso i porti, chiuso le frontiere e avremmo vissuto nella bellezza del bel paese. Questo è stato il messaggio, accolto da una minoranza significativa e sostanzialmente reso piuttosto efficace anche attraverso i gnavi di quanti stanno a guardare. Non si sono opposti. Una piccola minoranza si è opposta e si fa protagonista lungo le rotte della disperazione per salvare naufraghi ma trovano sempre respingimenti. È giunto il tempo della rivolta e della ribellione contro noi stessi, contro il nostro desiderio insano di non essere disturbati. Allo stesso tempo però quando abbiamo bisogno e chiediamo soccorso vorremmo braccia aperte, generosa disponibilità di poter attingere il bene comune per rimediare ai nostri drammi esistenziali e materiali. Abbiamo così inventato il 110% il quale soccorre indistintamente ricchi e poveri ma soprattutto favorisce i ricchi. Perché il più delle volte i poveri abitano in dimore che non hanno diritto di progredire nel percorso intricato delle classi energetiche. Perché classi energetiche non significa significativo modo di vivere che riduca l'inquinamento ma semplicemente possibilità di blindare le nostre case. Certo, è vero, inquineranno un po' meno ma non in modo così significativo da evitare la catastrofe climatica. Quindi oggi abbiamo di fronte a noi delle scene straordinariamente efficaci nel rappresentare il nostro modo di riporci nei confronti delle nostre fragilità, dei nostri errori e delle nostre colpe. Chiediamo perdono. Vogliamo essere perdonati per il tanto male che abbiamo fatto. Cerchiamo cuori e menti aperte che ci accolgano in una misericordia che ci concede la grazia del perdono. Ma allo stesso tempo siamo inflessibili nei confronti delle colpe altrui o delle colpe attribuite agli altri. Il Vangelo di oggi ci parla del servo che doveva al signore diecimila talenti, al padrone. E il padrone, visto alla sua impossibilità di risolvere il debito, decide di mandarlo in prigione. Ma quel servo si butta i suoi piedi, esprime la sua disperazione, vuole essere aiutato. Il padrone è commosso fino alle viscere, questo dice il Vangelo di oggi. Egli concede la cancellazione del debito. Poi va lungo la strada questo servo, graziato del perdono, incontra un altro servo, il quale gli deve cento talenti, ben poca cosa un piccolo debito. Lo assale, lo porta in carcere, perché quel servo con il suo piccolo debito non aveva la possibilità di cancellare quel debito. Ecco che allora gli altri servi si rivolgono al padrone e gli raccontano l'episodio. E qui c'è il passaggio. Dalla commozione viscerale alla rabbia e alla rigorosità prende quel servo malvagio che voleva essere condonato. Il condono. Questa parola che si arpeggia sempre nelle campagne elettorali, condonare i debiti. Il dovuto che noi dobbiamo dare al bene comune, condonare. Vogliamo che l'Europa intervenga, che ci dia gli aiuti, perché siamo in difficoltà, siamo in debito. Il giorno dopo diventiamo acerrimi nemici dell'Europa. Questo è il modo di pensare, di agire di una coscienza ammorbata da un egocentrismo che vuole sempre essere graziato dal perdono e contemporaneamente si esprime nei confronti degli altri proprio in modo cinicamente rigoroso, respingente. Questo è il modo nel quale noi stiamo vivendo in questo momento, in questo frangente storico. Il primo quadro è appunto questi soccorsi economici che possano perdonare l'improduttività generata da contesti critici nei quali abbiamo vissuto negli ultimi trent'anni. Crisi economiche finanziarie, climatiche, geopolitiche, la guerra, i disastri sanitari, perché non abbiamo voluto investire in salute. Ecco tutto questo si fa questuanti nei confronti delle nostre responsabilità che vogliamo siano graziate subito, ma poi diventiamo impietosi nei confronti degli altri, dell'altro con la A maiuscola, di colui che bussa alla porta della nostra coscienza e questo quadro di un centro di controllo in Italia che risponde a una richiesta di soccorso con grazie per l'informazione ciao ciao, riflette in maniera straordinaria il comportamento di quel servo malvagio che chiede di essere perdonato e non sa accogliere il debito dell'altro, non è capace di farsi commuovere fino alle viscere perché quando tu sai che quelle persone stanno fuggendo dalla fame, dalla carestia e dalla guerra, come fai a non commuoverti fin nelle viscere? Tu che magari ti sei dichiarato cristiano, cattolico, difensore della civiltà cristiana, vai a cantare il karaoke e hai eluso, un dovere anche istituzionale, rendere omaggio a quelle bare, no, non ti interessa quello, vuoi essere semplicemente il leader sommo rigoroso che porta messaggi di sicurezza. Non condonerò il debito ai poveri ma grazierò i ricchi perché questo è il messaggio politico che oggi ha costruito un consenso minoritario che grazie alle alchimie delle leggi elettorali permette di governare con una maggioranza assoluta. Dall'altra parte vi è una colpa molto profonda, quello di non aver trovato una mediazione necessaria per contrapporsi. Abbiamo accantonato il nostro egocentrismo per poter esprimere, ma non siamo stati capaci, esprimere una contrapposizione, ma non siamo stati capaci poi di essere protagonisti di una azione coerente perché poi è risorto quell'egocentrismo, è rinato in occasione della opportunità che avevamo di impedire che quella, grazie per l'informazione, ciao ciao, serpeggiasse triste nella nostra società. Certo, siamo accoglienti, così diciamo, e nel dirlo evidentemente troviamo un momento di grazia nel quale abbandoniamo la nostra autoreferenzialità, ma poi quando concretamente ci predisponiamo a condividere le sfumature e le differenze siamo incapaci di costruire una visione comune. Tutto questo insieme ha generato questo frangente storico e politico e culturale nel quale il respingimento la fa da padrone. Ma voglio tornare anche su un altro quadro, quando la persona che si fa protagonista di un comportamento dissipativo e sta male, chiede aiuto, chiede aiuto alle persone care, chiede aiuto anche ai professionisti, porta con sé non solo il suo comportamento, ma anche i torti subiti, anche i traumi che ha vissuto nel corso della sua esistenza, i debiti che ha nei confronti del suo comportamento e i crediti che accampa nei confronti del comportamento altrui e che hanno generato quelle ferite profonde e che una scienza piuttosto discutibile rappresenta come la causa primaria che ha generato quel disturbo del comportamento e che adombra anche la salute mentale di quelle persone. Per essere chiari, allora chiedo aiuto ma non sono assolutamente disponibile a concedere la cancellazione del debito a quanti ritengo mi abbiano fatto dei torti. Voglio essere soccorso, voglio essere soccorsa, ma non ho nessuna intenzione di cancellare i debiti degli altri nei miei confronti. Questa è una dinamica che è intrinsecamente presente nella domanda di aiuto e di cura e nelle risposte che i sistemi di cura oggi danno nei confronti di tutte le variabili che costituiscono la salute mentale. La via di uscita è la dimensione del perdono. Ma perdonare, entrare nella logica del perdono, non significa entrare nella logica dell'eclettismo, significa rispecchiare. Ciò che oggi il Vangelo ci suggerisce, ci invita con forza a praticare nel corso della nostra esistenza, che siamo credenti o non credenti a poca importanza. Ebbene, che cosa ci dice il Vangelo oggi? Che il perdono è sicuramente un atto molto difficile, che scuote profondamente le viscere delle persone nel concederlo e allo stesso tempo non abdica mai nei confronti della necessaria rigorosità che tutti noi dobbiamo coltivare e costruire nel corso della nostra esistenza. Una rigorosità che è fatta di giustizia e di amore, che sono due aspetti inscindibili e che dovrebbero caratterizzare in maniera significativa la nostra esistenza. Dunque oggi l'invito è quello tutti, anche il più disperato sulla Terra, di cancellare i debiti che sentiamo di vivere nella nostra esistenza. Cancellare debiti e crediti, tutte e due le cose, perché se siamo creditori nei confronti del prossimo, il prossimo è debitore nei nostri confronti. E la difficoltà estrema è esprimere tutto questo appunto nella rigorosità dell'amore della giustizia. Essere protagonisti e testimoni di cancellazione di debiti e crediti, perché ognuno di noi è responsabile di ciò che accade, dobbiamo mettercelo nella nostra coscienza questo modo di vedere le cose. Responsabile, ma contemporaneamente attenzione, il perdono non cancella la rigorosità della giustizia e dell'amore. Stiamo in questo limite che mi rendo conto sia difficilmente praticabile, ma necessario, perché solo attraverso questa strada troveremo la via autentica di una cura che è nella relazione e nella vita comunitaria. Buona giornata a tutti.